oggi è il 9 lunedì dicembre siamo a Pelizzano in Val di Sole quello che non hanno fatto gli altri giorni lo stanno facendo adesso praticamente stanno riempiendo il cielo una roba pazzesca queste qua sono bassissima quota qua e non più di 500 metri di altezza queste tre qua e esattamente un'ora fa non c'erano mi devo appoggiare per riuscire a passare pazzesco ecco stanno stanno iniziandoci a questa maniera proprio qua sopra la mia testa esattamente proprio sopra l'albergo dove sono stanno passando una due tre quattro cinque e scie chimiche ma dai un'occhiata dai un'occhiata pazzesco si stanno avvelenando ma ci vogliono far morire tutti dice non è giusto non è giusto